Il momento economico, congiunturale e strutturale, con la pressione fiscale passata al 44% del PIL. Uno sguardo rivolto all'Italia ed uno rivolto all'Europa, ed ecco che emerge il nodo della disoccupazione, specie quella giovanile, che rimane un problema emblematico. Il decreto energia, il decreto del fare, il nuovo redditometro, le novità del decreto lavoro 2013, la legge di stabilità, sono solo alcune delle misure adottate finora. Un vero e proprio diluvio di leggi, leggine, regolamenti, intorbida le acque delle imprese italiane. Pare impresa in Italia? Ed eroi! L'imprenditore è come in un labirinto dove il minotauro è la burocrazia. Vi aspetto tutti i venerdì alle 19.35 su Tef Channel con Fiscal News per saperne di più.